Don Carmine, ben trovato, una giornata particolare come quella sempre il giorno prima dell'assunta. Una giornata particolare, sì, perché è la prima volta che ci capita di poter fare questo omaggio canora alla Madonna, la vigilia dell'assunta. Io naturalmente ho accettato ben volentieri la richiesta degli amici del clan. Sentiamo che stanno facendo le prove nel momento. Benissimo, quindi siamo già in dirittura di arrivo, quindi inizia subito il concerto e mi auguro che sia di gradimento da parte di tutti quanti. Don Carmine, c'è sempre la tradizione che vengono le compagnie anche nel giorno dell'assunta, nel giorno prima? Sì, sì. Il giorno dell'assunta e soprattutto il cilento che frequenta il santuario. Sai benissimo che ogni zona ha un suo periodo, un suo spazio e per l'assunta e soprattutto il cilento che viene a trovare la Madonna. Beh, ma oggi abbiamo la presenza di molti stranieri anche qui. Eh, abbiamo addirittura americani. Americani, sono una quarantina di americani che sono venuti, naturalmente itali americani, che sono venuti a trovare la Madonna, a pregare la Madonna. Hanno ripetuto quello che facevano magari quando erano giovani. Beh, allora ci aspettiamo la benedizione della Madonna da Don Carmine direttamente dal santuario del Monte Gelbico. Che la Madonna benedica tutti quanti, ci aiuti sempre e ci accompagni come una mamma. Grazie. 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 Grazie.